Registriamo una forte immersione di casi, di denunce, di maltrattamenti, di abusi sulle donne. È un fenomeno che negli ultimi 12 mesi è aumentato in maniera esponenziale perché sono aumentate le denunce, soprattutto per quei reati spia che denotano un maltrattamento. 34 uomini arrestati, 342 persone denunciate per reati che rientrano nel Codice Rosso. Un aumento esponenziale è quello registrato in un anno dall'Arma dei Carabinieri che in occasione della sua festa analizza l'andamento dei reati. Negli ultimi 12 mesi le denunce di maltrattamenti in famiglia sono cresciute del 74% e per atti persecutori del 33%. Dopo il caso di Giulia Cecchettino, le donne hanno preso consapevolezza e denunciano di più sopprusi, violenze e stalking. Gli interventi dei Carabinieri di Padova sono quotidiani. Non passa giorno in cui noi non salviamo una donna vittima di abusi. Soltanto ieri abbiamo arrestato due persone per questi motivi, tra cui uno che si è rappresentato sotto in prossimità del luogo di lavoro, nonostante avesse già il divieto di avvicinamento. Negli ultimi 12 mesi sono cresciute le chiamate al 112. I Carabinieri nell'ultimo anno hanno risolto sei omicidi. Importante anche il contrasto alle truffe anziane, aumentate del 13%, con interventi repressivi ma anche di prevenzione, con incontri di sensibilizzazione nei vari comuni della provincia. stabili in lieve diminuzione gli episodi di violenza minorile. Alta l'attenzione al contrasto allo spaccio di droga, con 105 arresti e oltre 15 kg di sostanza stupefacente sequestrata. Il nuovo allarme si chiama fentanil, utilizzato come terapia per il dolore. È impegnata proprio a verificare l'uso e la gestione del fentanil all'interno delle strutture sanitarie, perché il fentanil è un potente oppiaceo, molto pericoloso, che negli Stati Uniti ha prodotto tantissimi morti. Per cui è una sostanza, un farmaco, che deve essere tenuto assolutamente sotto controllo per evitare che possa essere sottratto.